Putin ha dichiarato che gli ucraini sono neonazisti e ha promesso di denazificare il loro paese. Attribuire allo Stato ucraino l'essere nazista è stata a lungo una tesi centrale della propaganda russa. Vediamone i motivi ed esploriamo l'ideologia del putinismo. Come mai esistiamo? Differenti regimi russi hanno dato differenti risposte a tale quesito. La teocrazia bolscevica asseriva di guidare l'umanità verso il paradiso in terra del comunismo. Fino agli anni Sessanta, ci credevano seriamente. Nel 1960, Khrushchev diede un traguardo preciso, il comunismo verrà realizzato entro il 1980. Khrushchev, tuttavia, fu l'ultimo vero credente al potere. Nel 1964, fu deposto da Brezhnev, a cui la questione non importava. Brezhnev abbandonò il piano di realizzare il comunismo entro uno specifico anno. Disse che avere un socialismo sviluppato sarebbe stato abbastanza. Quindi, ora non stiamo più marciando verso il paradiso in terra. Ciò tuttavia creò un problema di giustificazione e legittimità. Se non stiamo seriamente costruendo il comunismo, allora perché esistiamo? Qual è la ragione che ci legittima? Brezhnev aveva la risposta, perché noi abbiamo vinto la seconda guerra mondiale. Noi abbiamo salvato l'umanità dal nazismo, e questo è il nostro più grande successo di sempre. Brezhnev trasferì la fonte della legittimità nazionale dal futuro al passato, cambiando l'intera narrativa. I sacrifici dello stalinismo erano prima giustificati come la strada verso il comunismo. Ma ora, non stavamo andando da nessuna parte. Quindi, quei sacrifici ora diventano necessari perché ci hanno fatto vincere la guerra. Brezhnev iniziò a costruire massicciamente il culto della grande vittoria. Subito dopo aver preso il potere, introdusse le marce della vittoria, nella Piazza Rossa, ogni 9 maggio, data della presa di Berlino. Fece di ciò un rituale della nuova religione di Stato, giustificando il proprio mandato. Il culto della vittoria venne creato per riempire il vuoto lasciato dall'abbandonamento del progetto comunista. Se non possiamo più dire che stiamo marciando verso un fantastico futuro, perché nessuno più ci crede, allora discuteremo i nostri grandi successi avvenuti nel passato. Brezhnev si appuntò un numero esagerato di medaglie della Seconda Guerra. L'Unione Sovietica divenne la Russia, e la storia ripetè se stessa. Negli anni 90, il Cremlino disse, stiamo costruendo un futuro brillante per la Russia, diventeremo ricchi e sviluppati come l'Occidente. Verso il 2000, nessuno più credeva in quel futuro. Putin trasferì ancora una volta al passato la fonte di legittimità. Come risultato di ciò, l'altamente idiosincratica nuova ideologia del putinismo immerse. Essa combinava il rispetto verso lo stalinismo, responsabile dell'aver ottenuto la grande vittoria, il clericalismo russo-ortodosso, e l'etnonazionalismo russo. Qualcuno, ironicamente, definisce tale ideologia come monarchismo nazionalcomunista russo-ortodosso. Ciò portò di nuovo a un cambio retrospettivo della narrativa. Stalin diventò buono perché restaurò l'impero russo e vinse la guerra. In realtà, Stalin non voleva restaurare l'impero russo, stava costruendo il comunismo. E non voleva nemmeno intraprendere la guerra, o almeno non nella maniera in cui avvenne. Anzitutto, Stalin vedeva la Germania come un naturale alleato contro i vincitori del Trattato di Versailles, ovvero Regno Unito e Francia. Quindi voleva pompare le forze tedesche, e rendere la Germania più forte. Molto prima che Hitler salisse al potere, Stalin aiutò l'esercito tedesco a rinforzarsi. Dopo la prima guerra, la Germania era incapace di organizzarsi per l'addestramento del proprio esercito. Stalin invitò gli ufficiali tedeschi nelle scuole sovietiche, perché divenissero familiari con armi ad alta tecnologia. Ad esempio, Hein Guderian, il futuro architetto del blitzkrieg tedesco, imparò come usare i cararmati nell'Accademia dei Cararmati di Kazan. Ci fu uno scambio tra Molotov e Kurt von Schleyer, cancelliere conservatore tedesco, nel 1932. Schleyer si stava lamentando circa i movimenti sovversivi dei comunisti tedeschi. Molotov rispose, l'Unione Sovietica non sarà contraria se la Germania tratterà i propri comunisti allo stesso modo di come i sovietici stanno trattando i nemici del popolo. Il patto Molotov-Ribbentrop non fu un'aberrazione. Fu una decisione geopolitica indipendente da chi fosse in quel momento al potere a Berlino. Stalin stava aiutando il potere militare della Germania in modo da poterlo scatenare contro gli alleati. Era del tutto approprio a giocò sacrificare i comunisti tedeschi, indipendentemente se essi fossero sacrificati a Schleyer o ad Hitler. Tutte le chiacchiere sul fatto che tale patto abbia ritardato la guerra sono prive di fondamento. Stalin non voleva ritardare la guerra. Voleva accelerarla, e usare la Germania come uno strumento per distruggere l'ordine stabilito da Versailles. Nel 1939, le forze sovietiche e tedesche invadero assieme la Polonia. Dopo aver distrutto la Polonia, essi tennero parate vittoriose assieme in varie città polacche occupate. Le parate della vittoria di sovietici a nazisti vennero tenute a Brest-Litovsk, Bawajstok, Grodno, Lu, ecc. Una caricatura dal periodico satirico sovietico Crocodile. L'insegnante dice alla propria classe, Bambini, a questo punto terminiamo lo studio dello Stato polacco. Nel 1939, la propaganda sovietica considerava la seconda guerra come una cosa positiva e divertente. Tutto stava andando come pianificato. Questa è una caricatura del Capodanno 1941. Il personaggio nella vignetta chiede, Gentlemen, dov'è il rifugio più vicino? Mentre le bombe tedesche cadono su Londra. La propaganda sovietica strizzava l'occhio ai nazisti mentre essi bombardavano a tappeto il Regno Unito nel 1940 e 1941. Questo era il piano di Stalin, e tutto stava andando secondo il piano. In cosa stava sperando Stalin? Molto probabilmente, egli fece male i calcoli. Stava probabilmente pensando che ci sarebbe stata una lunga e incerta guerra della Germania contro la Francia e il Regno Unito, non dissimile dalla Prima Guerra Mondiale. L'esito sarebbe stato la distruzione dell'Europa occidentale, che avrebbe permesso a Stalin di invaderla e conquistarla. I poeti sovietici, un altro braccio della propaganda di Stato, lasciavano intendere un appoggio a tale piano. Ad esempio, il poema di Kulchitsky datato 1941 dice, Treni segreti stanno già muovendosi verso i confini, e il comunismo è tanto vicino quanto nel 1919. Traduzione, abbiamo creato il caos, e lo useremo per vincere e conquistare. Ma l'esercito tedesco vinse sugli alleati in tempi brevi. Mentre l'esercito sovietico, lo stesso che aiutò l'addestramento dell'esercito tedesco, fu massacrato da Stalin stesso nella Grande Purga del 1937 e 1938. La maggioranza dei marescialli e comandanti furono giustiziati. L'armata sovietica fu distrutta. Stalin si aspettava che Hitler potesse attaccare. Ma pensava che l'esercito sovietico fosse forte abbastanza da respingerli in tempi rapidi. Sulla carta, egli aveva molti più cararmati, fucili e aerei. Quindi, quando Hitler attaccò il 22 giugno 1941, Stalin era tranquillo. Ordinò alle sue truppe di contrattaccare e fargli scappare via. Per qualche giorno, credeva che il piano stesse funzionando. Il motivo è che nessuno osava dirgli il contrario. Quindi egli era calmo e sereno, e pensava tutto stesse funzionando alla perfezione. Solo nel giugno 29, una settimana dopo che la guerra era iniziata, venne a sapere che Minsk era caduta. E ciò significava che la strada per Mosca era aperta. Com'è possibile? Minsk era protetta dall'esercito più forte che l'Unione aveva, il fronte occidentale, gestito dal distretto militare della Bielorussia. Stalin chiamò il commissariato della difesa e chiese qual era la situazione sul fronte ovest. Essi non seppero dirgli nulla. Stalin era allarmato. Ordinò a Molotov, Malinkov, Beria, e Mikoyan di prendere un'auto e guidare fino al commissariato. Stalin ordinò loro di metterlo in contatto col distretto militare della Bielorussia. Sukov gli disse che la connessione non esisteva. A questo punto, Stalin capì che l'armata occidentale non esisteva più. Stalin urlò addosso a Sukov con tanta violenza, che egli scappò in un'altra stanza e si mise a piangere. Quando i membri del Politburo lasciarono il commissariato, Stalin disse, Lenin ci ha lasciato il grande paese, e noi l'abbiamo gettato al vento. Stalin se ne andò verso la sua dacia, da solo. I membri del Politburo erano divisi. Vodzsensky disse che se a Stalin non importa, allora Molotov dovrebbe guidare il paese. Molotov si rifiutò. Andarono tutti alla dacia di Stalin. Stalin era depresso, e chiese loro come mai fossero lì. Mikoyan disse che Stalin pensava fossero venuti ad arrestarlo. Molotov disse che bisognava formare una commissione difesa per guidare il paese. E Stalin avrebbe dovuto esserne a capo. Stalin fu sorpreso, ma accettò. Il 6 luglio, il capo dell'intelligence militare sovietica, il generale luogotenente Golikov, partì verso Londra per discutere come coordinare le forze di guerra. A questo punto, l'Unione Sovietica si alleò con gli Stati Uniti e il Regno Unito. Gli Stati Uniti organizzarono massicci prestiti, con enormi aiuti militari per cibo, carburante, veicoli, e armi. Rifornirono l'armata sovietica per tutta la durata della guerra. Altrimenti i sovietici avrebbero perso, perché le loro catene di rifornimento erano state danneggiate dall'avanzata tedesca. Nel corso della guerra, la narrativa cambiò di nuovo. Adesso, nessuno voleva ammettere che l'Unione Sovietica aveva voluto la guerra, e che contribuì a costruire l'esercito tedesco in funzione anti-occidentale. Adesso, l'Unione Sovietica era pacifica, assolutamente antinazista, e la forza della luce contro le tenebre. Era una bugia, ma era anche conveniente. L'alleanza sarebbe stata troppo difficile se le potenze occidentali avessero ammesso la verità, ovvero che i sovietici contribuirono alla potenza dell'esercito tedesco, che i sovietici furono alleati di Hitler dal 1939 al 1941, e che si spartirono l'est Europa assieme. Quindi l'Occidente chiuse gli occhi e accettò la bugia. Ed è così che nacque il mito dell'Unione Sovietica antinazista. Un mito che fu riconosciuto dall'Occidente, che non voleva mettere in discussione il ruolo dei propri alleati nell'aver aiutato l'esercito tedesco. Dopo che la speranza nel comunismo morì, esso divenne un mito capace di legittimare lo Stato sovietico, e fu poi ereditato dall'attuale Russia. Esso non solo legittimò ogni regime del Cremlino come sacrosanto, solo per il fatto che i sovietici sconfissero i nazisti, ma divenne anche uno strumento universale dell'imperialismo russo, un'arma contro qualsiasi popolo dell'est Europa che avrebbe resistito alle ambizioni espansionistiche di Mosca. Nei casi più estremi, esso prende la forma delle etnie traditrici. Molte etnie sono state accusate di collaborazionismo coi nazisti, e pertanto deportati in massa dalle loro case verso posti desolati in Siberia e Kazakhstan, morendo in numeri elevatissimi. Guardiamo alla linea temporale. Le deportazioni e i massacri su base etnica iniziarono molto prima della guerra. Nel 1935, tra i 7.000 e i 9.000 finlandesi furono falsamente accusati di essere traditori, e furono deportati. Nel 1936, altri 20.000 contadini finlandesi furono deportati, e 35.700 polacchi vicini al confine ucraino vennero deportati in massa in aree spopolate del Kazakhstan. Nel 1937, fecero la stessa cosa coi coreani, accusati falsamente di essere spie dei giapponesi, e deportandone 175.000 verso Kazakhstan e Uzbekistan. I sovietici non informarono le autorità kazake e usbeche delle deportazioni, ed esse non prepararono cibo, alloggio o vestiti necessari. Non avendo una casa o del cibo una volta arrivati, i coreani morirono in percentuali altissime. Tra il 1936 e il 1938, lo fecero coi cinesi, uccidendoli, arrestandoli e deportandoli a migliaia. Nella grande purga del 1937 e 1938, 111.071 persone accusate di essere spie furono giustiziate nella cosiddetta operazione polacca. Altre 41.898 nell'operazione tedesca, e 5.439 nell'operazione romena. Numeri altissimi di finlandesi, lettoni, ingriani, e altre popolazioni, furono inclusi nelle liste delle persone da eliminare, per il solo fatto di essere minoranze etniche. L'Unione Sovietica stava già conducendo enormi operazioni di pulizia etnica prima della guerra, prima che qualsiasi collaborazione coi nazisti fosse iniziata. La guerra non cambiò tali politiche, ma permise ai sovietici di continuare le pulizie etniche, stavolta dando loro la scusa perfetta, stiamo eliminando le minoranze perché sono nazisti. Significa che non ci fu collaborazionismo? No. Anzi, esso fu massiccio. Il regime di Stalin era odiato, e molti videro la guerra come l'occasione perfetta per rovesciarlo. Moltissimi russi, di etnia russa, passarono dalla parte dei nazisti. L'armata di liberazione russa, che era pro-nazismo, aveva più di un milione di soldati. L'armata russa di liberazione usava i simboli tradizionali dell'impero russo, come il tricolore russo, blu e bianco. Lo stesso che la Russia utilizza oggi. Nel 1945, queste bandiere furono gettate nella piazza rossa assieme alle bandiere con le svastiche. Questo è il motivo per cui ai veterani sovietici non piaceva la nuova bandiera russa, vista come un simbolo pro-nazismo. Essa era chiamata la bandiera di Vlasov, dal nome del generale defezionario Andrei Vlasov, comandante dell'armata russa di liberazione. La narrativa anti-nazismo delle autorità russe è semplicemente un'arma contro chiunque in Est Europa non si sottometta a loro volere. La Russia indica simbolismi pro-nazisti nell'Est Europa per giustificare tali accuse. Ma, se seguiamo la stessa logica, la Russia usa bandiere e simboli pro-nazisti. La mara verità è che i nazisti trovarono un po' di supporto praticamente ovunque. In tutta Europa c'erano persone che simpatizzavano coi nazisti, per le motivazioni più svariate, sopravvivenza, carriera, vendetta. Molte minoranze nazionaliste, ad esempio le Slovacche, si sentivano discriminate e speravano di ottenere così l'indipendenza. Se seguiamo la logica di Mosca, secondo la quale intere etnie sono per sempre macchiate e maledette perché alcuni dei loro membri furono pro-nazismo decine di anni fa, allora la pulizia etnica dovrebbe interessare essenzialmente tutta Europa, inclusa la Russia stessa. Ovviamente la Russia non mantiene questa posizione in maniera consistente. Preferisce usarla come arma per mettere a tacere l'opposizione di altri paesi alla propria dominazione. Se non ti arrendi e sottometti a Putin, allora questa è la prova che sei nazista. Essenzialmente, una versione esponenziale della reduczione ad Hitlerum. Perché la Russia la utilizza? Anzitutto, perché è compatibile col mito fondativo che i capi del Cremlino sono dei santi perché una volta sconfissero la Germania nazista. Ovviamente, non diranno mai che fu il Cremlino ad aiutare l'esercito nazista, e ad allearsi con loro nelle prime fasi della Seconda Guerra Mondiale. Alcuni russi sanno perfettamente quanto insensato sia tutto ciò. Un detto popolare dice, ogni vero patriota sa che la storia russa iniziò nel 1941, e solo i traditori mentono dicendo che iniziò nel 1939. Esso riflette come la Seconda Guerra Mondiale sia un mito fondativo del regime russo, e che il Cremlino mente circa il suo ruolo reale nella guerra. La seconda ragione è che l'Occidente appoggiò per primo questa conveniente bugia, flissando sulle origini del potere militare nazista, e ad oggi continua ad appoggiarla. La persistenza ad appoggiare bugie che ci fanno stare bene è emotivamente facile. Ma verrà pagata a caro prezzo. Un prezzo che l'Occidente sta solo ora iniziando a pagare. Durante i preparativi dell'invasione dell'Ucraina, i mass media statali russi sostenevano che le forze russe verranno accolte dai cittadini ucraini come quando i sovietici liberarono l'Europa dai nazisti. Come parte del mito fondativo russo, le truppe sovietiche che combatterono i nazisti sono assolutamente divinizzate in Russia. Molti dei giovani soldati russi si aspettavano probabilmente di essere accolti come eroi, e riusciano ringraziati dagli ucraini di liberarli da un governo malvagio. Invece, i cittadini ucraini li hanno accolti come malvagi invasori. Credevano al Cremlino, pensavano di essere accolti e ringraziati. Invece si trovano combattuti e respinti al grido di occupante. La propaganda del Cremlino ha detto ai propri cittadini che i russi sono i difensori dell'Ucraina. Ma i soldati vedono in prima persona che questa è una bugia. E ricevono l'ordine di sparare alle stesse persone cui è stato detto esse erano lì a difendere. L'altro messaggio del Cremlino è che l'Ucraina costituisce una minaccia esistenziale alla Russia. Ma questo è come convincere gli Stati Uniti che il Canada sta per attaccarli, o gli australiani che la Nuova Zelanda sta per invadere. Quindi la necessità è stata di vendere l'Ucraina come una testa di ponte della Nato. La linea di persuasione della denazificazione è servita nella prima fase dell'invasione. Ma quando tutti i cittadini, in paesi nei quali magari i tuoi stessi parenti sono nati, ti stanno dicendo di andartene a casa, essa crolla. Per tale motivo, più il tempo passa, più la propaganda putiniana si muoverà inevitabilmente verso la seconda linea di persuasione. La linea di sicurezza. UBÍCIA! 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 UBÍCIA!